Sono Etica, la tua nuova assistente decisionale. Io con Etica voglio dare alla gente la divina provvidenza, ma senza Dio, il migliore dei mondi possibili. A quei momenti che pensi che non arriveranno mai, ma sono belli! Agli amici! Abbasso la solitudine! Sì! Attacchene! Questo è l'ennesimo attacco ad un forno di questo 2029. È la crisi! Ragazzi, la gente è uscita un po' di mano. Come mamma, Etica ha cambiato la nostra vita di genitore. Perché non hai ucciso la bambina? Come si può uccidere una bambina, Doc? Etica vuoi! Non voglio più sbagliare! Io posso non sbagliare più! Adesso c'è Etica! Prima abbiamo smesso di scegliere la strada, perché c'era una app che ci consigliava il percorso migliore. Poi i libri da leggere, i post su Facebook, il partner sessuale... La gente si darà mai un limite! Il nonno morto nella bala! Gliel'ho morto il nonno morto nella bala! E gliel'ho mostro, il nonno morto nella bala! E gliel'ho mostro, il doncio reso! Gliel'ho mostro! Non avrete più risposte! E gliel'ho mostro! E gliel'ho mostro, il nonno morto nella bala! E gliel'ho mostro, il nonno è blockato nella bambina!